cari amici benvenuti amici e famiglie all'ascolto benvenuti in questa diretta un po' particolare sono in un luogo per molti di voi familiare e mi trovo anzi in un punto particolare di questa di questo convento che è il convento di arcetri ed è il punto sul quale dinanzi ad un campetto si apre la grande vallata che da verso verso prato verso campi bisensio quindi si vedono all'orizzonte tutte le luci della notte ormai e tra le luci della notte splendono la luna e c'è un pianeta accanto potrebbe anche essere giove che ci guardano in silenzio e ci donano la meraviglia di questa notte è molto stellata un po più fredda del solito asciutta come è tipico di queste colline fiorentine deliziose e dall'altra secca è un clima appunto dove non c'è il ristagno d'umidità un debole vento porta via l'umidità appunto e porta via le fatiche della giornata e ci ridona i passi della contemplazione in questa terra del carmelo e su questa collina qui facendo un po marcia indietro potete vedere con forse è la silhouette solamente visibile quella di una croce al termine di questo oro della sera vedrete capirete forse meglio il perché di questa croce piantata per terra il suo significato ed è il luogo dove tanti di noi hanno passato un attimo di meditazione o si sono fatti le foto con la bellissima veduta iniziamo insieme nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen ascoltiamo il vangelo secondo giovanni della domenica prossima quinta del tempo di cuoresima in quel tempo tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci questi si avvicinarono a filippo che era di bezzaida di galilea e gli domandarono signore vogliamo vedere Gesù Filippo andò a dirlo ad Andrea e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù Gesù rispose loro è venuta allora che il figlio dell'uomo sia glorificato in verità in verità io vi dico se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo se invece muore produce molto frutto chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna se uno mi vuole servire mi segua e dove sono io la sarà anche il mio servitore se uno serve me il padre lo onorerà adesso l'anima mia è turbata che cosa dirò padre salvami da quest'ora ma proprio per questo sono giunto a quest'ora padre glorifica il tuo nome venne allora una voce dal cielo l'ho glorificato e lo glorificherò ancora la folla che era presente aveva udito diceva che era stato un tuono altri dicevano un angelo gli ha parlato disse Gesù questa voce non è venuta per me ma per voi ora è il giudizio di questo mondo ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori e io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me diceva questo per indicare di quale morte doveva morire parola del signore lode a te o cristo bene cari amici da questa croce appunto qui ad arcetri piantata nel suolo del carmelo e abbiamo ascoltato questa parola del vangelo che ci annuncia una novità all'interno del cammino di quaresima cioè prima che Gesù arrivi a gerusalemme per noi per lo meno liturgicamente mentre invece da un punto di vista evangelico questo brano succede immediatamente alla entrata trionfale in gerusalemme arrivano da Gesù alcuni personaggi diciamo dall'estero mettiamo così alcuni greci avevano sentito parlare di lui e con curiosità si inoltrano per incontrarlo due discepoli lo accompagna gli accompagnano da Gesù iniziano un dialogo che in realtà è molto breve per il quale Gesù stesso in qualche modo cambia completamente tema e dice appunto che è giunta l'ora è giunta l'ora ora noi non capiamo per quale motivo Gesù dà questa risposta da una parte si potrebbe dire Gesù elude la popolarità dovuta ai miracoli cioè si volge altrove si allontana da questa fama che ormai lo circonda e quasi lo soffoca e dall'altra parte sembra che l'arrivo dei greci invece un popolo gente da popoli stranieri diciamo indichi qualcos'altro per esempio che il suo messaggio ha già varcato i confini e quindi è un maturo in qualche modo è pronto per gli estremi confini della terra ma per fare questo non basta più un segno un miracolo c'è bisogno piuttosto che il figlio dell'uomo dia la vita quindi è giunta l'ora e questa ora questa ora a due volti un po come nell'orto degli olivi il primo è un aspetto di angoscia nelle parole di Gesù si sente al vivo l'angoscia che qualsiasi uomo proverebbe Gesù vero uomo manifesta questa angoscia è un momento che probabilmente fa passare per la mente di Gesù il pensiero della fuga e lo esprime cosa devo dire adesso devo forse fuggire padre allontana da me tutto questo vedete sembra proprio l'orto degli olivi no un anticipo di quello che avverrà un'angoscia che non è solo di quel momento ma che accompagna Gesù in tutto il tempo della passione e l'altro elemento invece è l'accoglienza della prova padre per questo sono venuto glorifica il tuo nome e il padre che risponde con la glorificazione una glorificazione certo che noi non definiremmo così guardando al patibolo infame della croce insomma questa è in realtà sono i due volti se volete di quell'ora fatale che Gesù dice che si è inaugurata e questi due volti però si consacrano in qualche modo in un'unica icona e Gesù stesso la propone un'immagine meravigliosa che richiama il grano il chicco il chicco di grano se caduto in terra non muore rimane solo se invece muore porta molto frutto direi che su questa parola potremmo letteralmente soffermarci e forse terminare il chicco caduto in terra ecco la spiritualità del chicco mi piacerebbe chiamarla così potrebbe essere veramente un corso di laurea nelle facoltà di teologia la spiritualità del chicco qualcosa che raccoglie gli scritti neotestamentari i vangeli qualcosa che racchiude al suo interno anche l'esistenza umana e il senso dell'esistenza è quasi la carta magna del cristianesimo molto vicino al tema delle beatitudini no matteo capitolo 5 la spiritualità del chicco un'immagine semplice la più piccola la più innocua ma insieme la più potente ecco il chicco caduto in terra certamente è Gesù Gesù non sta parlando immediatamente di altri ma nella previsione di ciò che accadrà così come lui si sente abbandonato nell'abbraccio del padre quel chicco è Gesù il figlio del padre che poi potremmo dire letteralmente caduto in terra se così leggiamo l'incarnazione vissuta poche settimane fa il senso e lo spirito del natale Gesù figlio del padre il chicco caduto in terra caduto su questa terra deve morire per non vita per moltiplicarsi e la morte del chicco è la volontà del padre che è una volontà di bene e non potremmo dirlo con lo sguardo chino solo sulla morte sulla croce possiamo dirlo che è una volontà di bene quando è legata alla comunione e alla moltiplicazione ciò che è stato ed è oggi ancora la storia della chiesa e di coloro che danno la vita sapendo che dare la vita produce comunione dare la vita moltiplica i gesti d'amore se il chicco non muore tristemente rimane solo e se questa è la vera maledizione di un uomo e di una donna su questa terra è la mia solitudine quando rimango non comunicato quando mi conservo e possibilmente in ogni gesto in ogni cosa quando faccio tesoro nei miei depositi delle mie sole ricchezze rimango non comunicato non moltiplicato marcisco con le mie ricchezze e quindi l'uscita dalla solitudine dalla sterilità avviene solo con la consegna alla morte l'accettazione della morte non la faccio io per primo non sarò nel primo nell'ultimo se dio mi darà questa grazia cari amici è gesù per noi che come primizia lo compie e questa spiritualità del chicco riguarda gesù ma riguarda tutti noi amare ad oltranza la nostra vita nel senso di custodirla egoisticamente e gelosamente difenderla da tutto e da tutti difenderla soprattutto dalla volontà di dio credo che sia il modo migliore per perderla ma gesù indica una vita eterna che è migliore dopo ma è migliore anche ora dare la vita a un senso di felicità produce gioia e pienezza a partire da subito ora appunto direbbe gesù ora si compie in questa croce c'è già il mistero della glorificazione insomma la spiritualità del chicco cari amici la riassumerei così spendersi senza riserve col sorriso fiducioso di chi sta accumulando tesori in cielo dove non vengono rubati dove non si perdono dove non non si svalutano spendersi senza riserve senza pretese di un ritorno senza attesa di un qualsiasi compenso ecco cari amici è tanta la materia di questa di questa domenica che ci attende veramente si sente sempre di più si percepisce chiaramente che siamo più vicini alla pasqua e io come vedete mi avvicino mi muovo forse iniziate a intravedere qualcosa di familiare per chi non lo fosse questo è il chiostro del nostro convento di san matteo in arcetri illuminato da appunto dalle luci e sopra c'è un cielo raggiante di stelle che purtroppo non riesco a condividere con voi con un semplice cellulare ma vorrei dirvi una cosa io venivo da la croce quella croce così in un punto che nella prosa di questo luogo è accanto a un vecchio pollaio è sopra una terrazza dalla quale si vedono gli oliveti e qui si entra nella poesia perché gli oliveti la valle cipressi è una vista meravigliosa che soprattutto si apre alla possibilità di contemplare ogni sera un tramonto diverso tutti vengono qui a farsi la foto oppure a meditare la bibbia aperta e cosa fa quella croce lì è piantata per terra si dice così è vero piantata per terra ecco è esattamente come il seme anche il seme è piantato per terra quindi chissà che gesù quando pensava proprio alla seme che deve morire e marcire una volta che viene piantato sulla nuda terra non pensasse già a quella croce che sul gorgota veniva piantata per terra e diventerà la sua ultima casa su questa triste terra ma diventerà anche l'occasione meravigliosa di dare la vita e allora ecco penso che il chicco e la croce si incontrano con questo legame essenziale con la terra la nostra terra la mia terra e allora traggo da questa immagine del libro della natura meravigliosa un inizio di cammino nella spiritualità del chicco per arrivare piano piano alla settimana santa e poi al tridò di pasqua ho bisogno per iniziare a vivere la spiritualità del chicco di abbassare lo sguardo sulla nuda terra in cui poggio quella che mi ospita e che contiene il mistero dal quale vengo e anche la legge spirituale che mi orienta questa è la terra della chiesa questa è la terra degli uomini questa è la terra del carmelo e credo che la cosa più bella stasera è completare questo momento di orazione di preghiera con chiedendo l'assistenza della vergine maria questo chiostro ha una magia notturna tutto viene spento ma questa luce alla madonnina come vedete su un tronco di legno rimesso a posto dai nostri confratelli con la mano sapiente di padre iosef è la madonnina che veglia costantemente sulle nostre notti sugli ospiti sui nostri padri in infermeria per i quali vi domando una preghiera a lei ci rivolgiamo con fiducia ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen il signore sia con voi vi benedica protegga e accompagni dio onnipotente lui che è padre figlio e spirito santo amen cari amici famiglia all'ascolto il signore vi benedica in questa settimana vi invito a condividere l'oro della sera la parola di dio spezzata con con i vostri amici su facebook potete trovare la diretta sempre registrata lo sapete sulla pagina facebook come anche sul canale youtube della nostra provincia carmelitani scalzi italia centrale un grazie a tutti voi per la vostra fedeltà è ancora una benedizione soprattutto ai più anziani agli ammalati è un ricordo sempre ai più poveri per i quali sempre viviamo questa quaresima con un po di attenzione appunto al consumo al digiuno alla preghiera all'intercessione un abbraccio a tutti voi buonanotte grazie a tutti grazie a tutti